Musica Cari amici, manco da settimana il carnevale e nella nostra scuola ci stiamo tutti preparando per il gran giorno. Per sapere come si svolgerà la giornata e quali sono gli appuntamenti in agenda il nostro Matteo ha intervistato l'educatrice Margherita. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Siamo qui con Margherita che si occupa del Ceriolis Go Talent. Margherita ci vuoi ricordare di che cosa si tratta? Ciao Matteo, siamo alla seconda edizione del Ceriolis Go Talent. Come dice il nome è un talent show. Abbiamo preso spunto dall'Italia's Go Talent che va in onda alla tv. E' un talent in cui chi vuole può proporre la sua esibizione che verrà vista e giudicata da fondamentalmente noi educatori per quanto riguarda la parte delle audizioni. Chi poi riuscirà a passare le audizioni arriverà alla finalissima e verrà giudicato da qualcun altro. Ci sono tanti iscritti e quali sono le esibizioni principali? Allora sì, le iscrizioni sono andate bene. Abbiamo una trentina di artisti che hanno deciso di mettersi in gioco. Abbiamo cominciato le selezioni lunedì e oltre ai vari canto, ballo e recitazione quest'anno come fanno quelli seri avremo anche delle esterne perché ci sono delle esibizioni particolari che non possono essere fatte sul palco e quindi insomma però non posso svelarvi troppo. C'è qualche novità rispetto allo scorso anno? Allora, confermati i quattro giudici alla finalissima, in più quest'anno abbiamo pensato di inserire una giuria popolare, presa probabilmente chi lo sa tra gli alunni, ma è una sorpresa anche questa quindi purtroppo mi fermo qua. Quando andrà in scena? Il Cerioles Got Talent andrà in scena nella mattinata della grande festa di carnevale dalle 10.30 in poi, quindi vi aspettiamo numerosissimi per la diretta Facebook il venerdì 21 febbraio dalle 10.30. Non mancate! Grazie a voi la linea in studio! Grazie a voi! I ragazzi della secondaria, giovedì 13 febbraio, si sono recati a Brescia per partecipare alla premiazione del concorso di disegno sul tema della pace. Vediamo il servizio! Oggi ci troviamo a San Barnaba, a Brescia, per la premiazione dei disegni Lions. Elisa Venturini, nella nostra scuola, ha vinto un premio con questo disegno. Che cosa rappresenta il tuo disegno? Il mio disegno rappresenta dei bambini che di varie nazionalità, in bianco e nero, per significare che siano tutti uguali, che camminano su una strada colorata che porta verso la pace. Man mano vanno avanti, assorbono i colori della pace. Grazie! Che cosa hai provato oggi ricevendo quel premio? Ovviamente felicità e poi ero molto emozionata. Al Green Edo, i piccoli hanno provato una nuova e bellissima esperienza. È iniziato il corso di acquaticità! Eccoli all'opera! Ciao Elisa, ci puoi spiegare come hai organizzato questo corso e quali sono i suoi benefici? Allora, questo corso è strutturato dividendo i bambini in base all'età. Partiamo dai 3 ai 12 mesi, dai 12 ai 24 e dai 24 ai 36 mesi. Attraverso il gioco andiamo a stimolare gli schemi motori principali. Favoriamo la creatività del bambino e andiamo a cercare l'autonomia acquatica rispettando i tempi di ciascuno. Quali strategie adottate per far sentire a proprio agio i bambini? Allora, prima di tutto rispettiamo l'esigenza del bambino. C'è il bambino che parte più sicuro e invece è quello che ha un po' più timone e più fonte dell'acqua. Quindi non andiamo a spruzzare. Principalmente usiamo gli strumenti musicali e ripetizioni di suoni, canzoni, cime improvvisate. Andiamo a stimolare la natura cognitiva del bambino, che non ha ancora una consapevolezza del linguaggio verbale, ma attraverso la musica abbiamo delle risposte naturali dal bambino. Ilisa, com'è andata la nostra prima lezione? I bambini sono andati molto entusiasti. Anche io e Daniela siamo rimaste entusiaste. Per noi è andata benissimo. I bambini hanno risposto benissimo alla prima esperienza. Non vediamo l'ora che arrivi il venerdì per vedere l'approccio che hanno nel mettere la seconda volta nell'ambiente apatico. Grazie mille. Prego. Prima di salutarvi vi diamo notizia di un evento. Il 16 febbraio la compagnia teatrale del QdV proporrà lo spettacolo Le Maschere di Mangiafuoco. Vi aspettiamo al piccolo teatro Meno Gurtolozzi di Manervio. Si comincia alle 15 e si replica alle 17. Non mancate. Da Davide e Beatrice è tutto dalla prossima... Alla prossima settimana! Alla prossima!